Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nel cuore della capitale, sotto un cielo limpido, si è svolto un incontro che potrebbe preludere a nuove avventure televisive. Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, volti noti del piccolo schermo, sono stati avvistati durante un pranzo che ha scatenato il gossip. Le immagini condivise sui social mostrano i due sorridenti e affiatati. Scatenando la curiosità dei fan. Recentemente, Beatrice Luzzi ha lasciato il suo segno nell'ultima edizione del Grande Fratello, guadagnandosi l'ammirazione di Signorini, il conduttore del reality. Nonostante non abbia vinto, la sua personalità forte e autentica ha conquistato molti telespettatori, che ora sperano di rivederla in tv. Il pranzo con Signorini ha quindi alimentato le speculazioni su un possibile ruolo di opinionista per Beatrice nella prossima stagione del Grande Fratello. Durante una recente apparizione nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, Signorini ha lodato Beatrice per il suo spirito libero e la capacità di esprimersi senza filtri, elementi che hanno definito il suo percorso nel reality. Questa sua natura divisiva, secondo Signorini, è proprio ciò che rende Beatrice un personaggio così magnetico. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie a tutti.